è la rotta di navigazione dei AWACS in questo caso abbiamo Forte 11 Forte 11 è un Global Oak che è a base a Sigonella rispetto alle rotte che seguivano fino a un mese fa o anche due settimane fa non so da che giorno precisamente ma due giorni fa ho notato che la loro rotta di controllo di stazionamento era molto più lontana rispetto al solito dalle coste della Crimea e dalla zona di guerra questo può essere indice di due fattori vi ricordate che circa tre settimane fa c'è stato il caso del finto affondamento del Admiral Makarov che poi è servito da copertura per un disastroso assalto all'isola dei serpenti credo che al momento se c'è la flotta russa in mare abbiano fatto capire in qualche modo agli aerei di spionaggio americani o NATO perché non ci sono solo quelli americani ci sono anche quelli inglesi anche alcuni svedesi che operano in questo settore di stare alla larga perché infatti loro sono molto più a sud rispetto a prima sembra un centinaio di chilometri quasi più a sud almeno sì circa un centinaio di chilometri più a sud esatto e da questa distanza il fronte di Kherson lo vedono a malapena perché dista quasi 300 chilometri e quindi sembra che qui seguano la flotta però perché è questo perché hanno fornito che cosa è cambiato da tre settimane a questa parte gli americani hanno fornito gli Harpoon e quei missili navali certo missili navali che però necessitano perché loro vanno oltre l'orizzonte arrivano a 120 chilometri di distanza quindi sono oltre la linea dell'orizzonte i radar di terra non li possono vedere necessitano di informazioni dialogano gli Harpoon con i Global Oak e con gli Hawax per dire i russi questo lo sanno e quindi gli hanno detto ok voi fornite gli Harpoon se state lì vi harpooniamo noi nel senso che vi abbattiamo e guardate che basta basta che le difese aeree ingaggino e facciano capire di essere bersagliate a questi aerei qua che loro alla fine non è che abbiano tante difese perché magari un missile lo intercettano e lo deviano ma se ne sparano tre o quattro a tempo li abbattono e quindi hanno spostato tutte le rotte nei giorni scorsi ho visto ho seguito alcune aereo cisterne che continuano però a darsi il cambio nella zona tra Galati in Romania e Magaglia che è sulla costa sappiamo benissimo che se c'è l'aereo cisterna ci sono anche tutti i caccia che si riforniscono riforniscono i caccia e forse non solo i caccia ah dici anche dei droni di questo genere o droni di questo genere o aerei da spionaggio elettronico o addirittura dei caccia dei bombardieri ricordiamoci sempre che possono essere dei punti d'attacco dei B-52 e che hanno proprio in questa zona uno dei loro punti d'attacco B-52 che chiaramente nessuno vedrà mai su Flightradar e quant'altro non finché esatto non finché non rientrano fuori dalle zone di guerra cioè quando rientrano magari in Italia arrivando in Italia accendono un transponder una cosa che ho notato quella volta che è passato sopra Alessandria il B-52 avevo cercato di filmarlo e fotografarlo dava due segnali su Flightradar come se fossero due i B-52 in formazione ma in realtà era uno solo quindi in qualche modo crea dei falsi bersagli la stessa cosa comunque l'ho notata anche su altri aerei però con equipaggio e in questo caso qui era un drone è anche la guerra di domani fornire informazioni false sulla propria posizione esattamente cose di cui noi non sappiamo niente ma siamo sicuri che lo sviluppo sia aeronautico che radar sia ad alti livelli un po' dappertutto siamo adesso su Severodonetsk e Lisychansk qui sono entrati nella parte periferica nord e anche un po' a sud ma non più di tanto perché sono stati mandati le perdite ucraine anche qui sono molto elevate Severodonetsk lo ricordiamo è a destra di Liman così per sì esattamente sulla sinistra c'è il fronte di Liman ecco qui vedete la parte nord del saliente di Popasna in basso in basso e dall'altra parte dall'altra parte potete vedere il fronte opposto no russo la distanza tra il il punto più vicino del fronte opposto e il punto più vicino del del saliente di Popasna è di 19 20 chilometri quindi non è tanto non è tanto e noi ci aspettavamo forse che iniziassero a abbandonare queste posizioni che sono indifendibili vedete in carazza di Kuldsak sono le trincee a sud no sì indifendibili totalmente infatti alcune mappe li danno già per cancellate queste trincee nel dubbio le lascio presenti però vedete che queste due città sono di fatto indifendibili invece di ritirare i soldati da questa sacca e salvaguardarli hanno mandato altri due battaglioni pochi giorni fa altri due battaglioni di difesa territoriale a rinforzare a farli massacrare sì che è una follia allucinante soprattutto visto che avevi sottolineato fino a poco fa che non c'è più mobilità quindi se non c'è più mobilità l'unica cosa da fare è andare a prendere quei poveretti che non possono più muoversi oppure lasciarli lì ma non aggiungere altra gente alla carneficina hanno pochi blindati pochi carri armati in questo settore veramente pochi qualche giorno fa avevano tentato Folli una offensiva per andare a est di Severodonetsk no? avevano fatto una puntata lungo una strada qualche scemo un po' esaltato diceva adesso li stanno ricacciando indietro no? leggevo sì hanno perso tutti i carri hanno perso tutti i blindati e se quei pochi che si sono salvati sono tornati indietro con le pive nel sacco a piedi sì a piedi e comandanti così cioè sono pazzi pazzi più che altro Stefano adesso secondo te questa città la vedremo cedere qualche giorno la vedremo cedere oppure ci sarà una resistenza folle dentro in qualunque in qualunque caso in qualche giorno cederà cederà lo stesso in qualche giorno cederà perché adesso parte delle truppe che hanno usato Aliman le spostano di qua e finiscono il lavoro tanto ormai hanno molte esperienze in questo tipo di di guerra e quindi eliminano molte più truppe del nemico di quelle che sono le perdite ormai che comunque sono abbastanza limitate da parte russa rispetto a quelle che stanno subendo gli ucraini no? fa impressione sentire queste notizie e sentire che noi continuiamo a mandare pacchetti secretati allora eccoli pacchetti secretati pacchetti secretati lo sono fino a quando non diventano di dominio pubblico Aliman Aliman una delle cose che mi è caduto l'occhio sopra tanto che facevano vedere le truppe russe che giravano nell'abitato le casse con delle munizioni per mortaio dove c'era scritto bomba leggera c'era scritto bomba leggera erano da 120 erano scritti in italiano sì da 120 mi sembra in italiano quindi la distruzione delle zone urbane e la morte di alcuni civili sicuramente ricade sul nostro paese perché quelle armi sono state usate contro le truppe russe che erano in città e pertanto sono state usate anche contro i civili che eventualmente erano lì nelle case nelle cantine per carità spero che fossero in salvo ma belle responsabilità per i tribunali in sostanza Stefano non lo so nel senso che la nostra costituzione dice che l'Italia rifiuta la guerra e noi possiamo rispondere alla guerra se siamo attaccati noi ma non possiamo fomentarla a nutrire l'altrove ecco questa situazione è l'opposto noi non abbiamo un obbligo a fornire delle armi a un paese terzo è un paese ma questi qui sono aggrediti dovremmo aiutarli a difenderli perché dovevamo impedire che si creassero le condizioni non dovevano neanche attaccare i loro vicini ucraini perché fino all'altro giorno erano i loro vicini ucraini sono otto anni che c'è la guerra e magari se non ce ne fossimo fregati altamente o se invece di aiutarli gli avessimo messo delle sanzioni contro queste teste di caso di carta di carta magari magari dico penso non ci sarebbe stato questo conflitto se gli avessimo detto è inutile che rompete le scatole voi sono otto anni che fate la guerra ai vostri cittadini noi non solo vi mettiamo le sanzioni ma non vi finanziamo nemmeno la guerra e invece gli abbiamo dato i soldi abbiamo fatto venire qua anche in regime di senza visto i suoi cittadini del loro paese li abbiamo aiutati in tutti i modi possibili a fomentare questo conflitto e adesso che c'è il conflitto in escalation e ne paghiamo le conseguenze gli mandiamo pure le armi ma chi ci obbliga a farlo quando la costituzione dice che non dobbiamo cosa è Stoltenberg è più potente della nostra costituzione non da questo punto di vista nel senso che noi dovremmo intervenire comunque al di là della costituzione perché facciamo parte di un'alleanza e la costituzione in un articolo prevede che l'Italia aderisca ad esempio ai trattati internazionali riconosciuti e quindi in quel caso il patto atlantico ci impone degli obblighi no? e noi dovremmo rispondere di questi obblighi ma nel caso dell'Ucraina non è così infatti in mille altri casi con paesi aggrediti e via dicendo noi non abbiamo mai mandato le armi non abbiamo mandato le armi alla Siria per difendersi dai terroristi a Gheddafi per difendersi dai terroristi o a Gheddafi per difendersi dai terroristi o dai bombardamenti che gli facevamo noi o a Milostric per difendersi dai bombardamenti che gli facevamo noi esattamente o non abbiamo mandato le armi agli iracheni per difendersi dagli americani mi pare abbia fatto l'opposto siamo andati a bombardarli anche noi ma nell'ultima volta eravamo andati più come truppe d'occupazione se devo essere sincero mentre l'Ucraina ricordiamocelo aveva partecipato proprio all'operazione di guerra quindi di invasione di aggressione contro un paese aggredito no? ricordiamocelo queste cose è un bel pantano è un bel pantano ma ragazzi noi siamo nella è un pantano che non è propriamente fango no 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 il profumo il profumo porta da un'altra parte esattamente diciamo che ci dà una più indicazione su una materia organica in forme ecco e comunque sia questa è la situazione che anche queste due città cederanno ma le vittime ucraine sono tante sono tante quando io un giorno uno mi ha scritto eh ma si sono mossi poco no? io ho detto sì immagino che siano contenti del tuo commento tutte quelle centinaia migliaia di ucraini che sono morti per difendere quei metri di terra e che poi l'hanno persi e dall'altra parte quelli che sono morti per conquistarli no? perché tu dici sì si sono spostati di poco ma quanto quanto è stato alimentato quel fronte perché tenesse prima di cedere e quanto è costato in vittime la difesa no? lì perché poi dopo come è successo a Popasna? a Popasna hanno combattuto per settimane certo certo settimane ma poi ha ceduto e dietro non avevano altro da opporre perché tutto quello che avevano l'hanno continuato a mandare a Popasna per fermare i russi e si è consumato lì e si è consumato lì adesso sta succedendo la stessa cosa a Severodonetsk a Lisichansk ed è lì infatti che si vedono la maggior parte delle proteste che arrivano via web gli appelli al presidente Zelensky no? guardi mandateci degli aiuti qua perché ci servono i carri armati blindati tutti quelli che avete sicuramente spostato altrove per un'operazione di offensiva dove stiamo avanzando no? ecco ce ne servono qualcuno anche qua magari no? e non gli mandano niente perché non ci sono certo adesso ho visto partire dal Canada un altro carico di M777 che sono gli obici l'artiglieria l'artiglieria americana di produzione se noi andiamo vabbè poi ne parleremo comunque glieli mandano perché sono finiti quelli ex sovietici gli hanno mandato quello che c'era gli hanno mandato le munizioni che avevano per fornire gli altri sistemi devono mandare gli obici in 155 cioè quelli di produzione nostra vediamo un attimo però Advevka Advevka noi non avevamo dato perché dieci giorni fa non era ancora successo la situazione così come è qui noi abbiamo quindi il fronte che è avanzato molto intorno ad Advevka in questi giorni proprio stanno dando l'assalto o l'assalto vabbè cercano comunque di tenere una forte pressione sono ai bordi di Krasnorovka che è proprio al centro a nord un centro a nord di Advevka perché fanno questo perché è importante tenere il punto lì perché Krasnorovka è la chiave del controllo su Advevka se cade Krasnorovka siccome sono anche hanno preso anche si sono incuneati tra Opitne e la città da sopra da nord intanto chiudono definitivamente la ferrovia e le vie di comunicazione con la città e quindi la controllano di fatto rimane chiusa rimane bloccata perché la strada tra Opitne e Advevka è controllata rimarrebbe quelle da Orlovka a Advevka qui però col controllo su Krasnorovka ci sarebbe il controllo di fuoco su questo settore e quindi la vedrei difficile di fatto la chiave di volta per Advevka è Krasnorovka se cade Krasnorovka avanzano tranquillamente alle spalle della città i russi tranquillamente vabbè diciamo che è meno difesa il settore dietro guardato anche non ci sono non ci sono punti difesi come quelli tipo bunker oppure sembrano esserci meno problemi geografici meno laghi meno laghi vi dicendo possono avanzare e prendere questi villaggi quindi russi e di fatto chiudere in una sacca Advevka e si troverebbe nella situazione dell'Azovstal di fatto e quindi abbiamo finito i fronti attivi abbiamo finito i fronti attivi abbiamo appunto il pezzo d'artiglieria nostro l'MH70 l'FH l'FH70 FH70 che gli ucraini gentilmente ci hanno fotografato per farci sapere che cosa gli abbiamo che sono arrivati che c'è il segreto di stato e quindi siccome l'hanno messo sul web e diffuso ormai è di dominio pubblico e se ne può parlare non parliamo eventualmente di altro comunque gentilissimi perché svolgono loro un servizio utile e abbiamo completato le carrellate vogliamo parlare un po' dell'Azovstal però cosa è successo noi abbiamo visto avevamo dato la notizia che nel pomeriggio noi ci eravamo visti e nella mattina era arrivata la notizia dei dieci che si erano arresi e che avevano portato notizia che dietro di loro c'erano un nutrito gruppo di soldati che avevano intenzione di arrendersi principalmente il primo gruppo che sarebbe uscito avevano avvisato sarebbe stato di feriti e quando quando abbiamo iniziato a vedere i feriti in che condizioni erano con arti amputati ma noi l'avevamo visto già prima di questo di questo scenario di resa che veniva a crearsi perché c'erano già le immagini durante i bombardamenti di queste di queste gambe arti con colori che non ci si può neanche immaginare e odori che altrettanto dovevano essere allucinanti e quelle erano le condizioni però venti giorni fa ecco potete immaginare come si è evoluta la situazione nel corso dei giorni e peggiorando per questi malati hanno trovato più di 300 cadaveri mi sembra l'altro giorno e non sono ancora tutti questi erano in un magazzino all'esterno non sono ancora tutti molti di questi sono morti tra l'altro erano feriti morti per sepsi infezione setticemia e via dicendo e anche civili tra l'altro ci sono morti anche civili abbiamo visto le condizioni igieniche del posto dove i bisogni venivano fatti esattamente accanto gli uni agli altri ed era una cosa dove l'infezione era più che normale purtroppo esattamente il punto è i comandanti i comandanti di queste unità che avevano la responsabilità della cura e della salute dei loro sottoposti perché non hanno consegnato i feriti al nemico perché ricevessero delle cure e guardate bene che non è una scelta questa è un obbligo per i comandanti perché non erano assolutamente in grado di di provvedere alla loro salute e quindi avevano il dovere di consegnarli alle cure del nemico perché è previsto questo il nemico ferito fatto prigioniero deve ricevere le migliori curi possibili e abbiamo visto che quando l'hanno fatto i medici russi se ne sono presi cura subito esattamente e quindi questo avrebbe potuto risparmiare la vita di centinaia di persone questo è un crimine di guerra è l'ennesimo questo è un crimine di guerra commesso dai comandanti ucraini contro i loro contro nei confronti dei loro sottoposti perché è un comportamento assolutamente criminale questo ne hanno causato la morte la sofferenza di fatto si profila addirittura la tortura nei loro confronti perché volontariamente li tieni in condizioni bestiali e questo è abominevole aberrante logicamente io immagino che tenessero nascosto tutto questo semplicemente per sempre questione di propaganda però è ovvio che consegnare ai russi i tuoi uomini era l'unica soluzione normale per salvare loro la vita ma certamente ma questo ci dà esattamente il metro della follia dell'esaltazione della lucida non curanza certo sì 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 ma questo è fanatismo ecco fanatismo fanatismo a forza di leggere Kant no hanno perso il lume della ragione l'elogio della follia chi l'aveva scritto non era Kant comunque sembra resta comunque il fatto che nessuno sui nostri media ha fatto presente questo figuriamoci sono impegnati a fare altro a mandare i loro doni in Ucraina a presentare al Papa tutte queste splendide signorine dalla mano destra al Papa sì guarda io comunque quando ho visto quei soldati sono stato male ah no anch'io certo ne abbiamo parlato moltissimo in redazione perché è una cosa che ha scioccato tutti noi allucinante comunque a colpi perché chiaramente c'erano anche dei problemi logistici legati alla loro resa cioè i mezzi necessari perché si sono arrese 2439 soldati i civili erano già stati evacuati in precedenza e qui si sono arresi 2439 soldati abbiamo visto il ritorno degli autobus in Resilia gli autobus verdi quelli che vedevamo in Siria esattamente la strategia è la stessa cioè io ti garantisco una resa e un trattamento umano e tra l'altro sottolineiamo una cosa la Croce Rossa immediatamente è stata invitata a visitare le condizioni dei prigionieri e sono stati portati in qualunque momento vanno a visitarli e hanno la possibilità di visitarli non solo li lasciano telefonare ai parenti per dire che non stanno male o comunque salutarli o tranquillizzarli che sono sopravvissuti e questi sarebbero quelli che hanno commesso tutti i crimini a bucia ci rendiamo conto eh ma qualcuno diceva che se ripeti una balla abbastanza lungo poi diventa la verità e da noi funziona questo genere di sistema sì ma il problema il problema è che noi cioè sappiamo che se tu combatti in un villaggio in una città e ci sono i civili in mezzo Buccia aveva cambiato di mano tre volte mi sembra e quindi si sono combattuti di conseguenza ci sono state le vittime di guerra non possono scomparire così ma io capisco perché e le ragioni per cui se si sia creato questo caso ma lo capisco da parte ucraina non lo capisco da parte nostra perché alla fine delle fini noi non siamo parte del conflitto sì non è che abbiamo neanche una scommessa in corso vero per quanto riguarda l'ucraino quindi di conseguenza sembra una squadra di calcio sembra guarda ti dico i nostri media dovrebbero rappresentarci la situazione come è perché non è che se loro cambiano ci presentano le mappe vecchie no la situazione sul campo cambia sì no o se non dicono che i russi sono avanzati in realtà rimangano nelle stesse posizioni o se dicono che gli ucraini stanno combattendo in condizioni disperate fanno un cattivo servizio agli ucraini io invece lo dico la vera informazione certo è molto più importante io lo dico perché rendo onore ai caduti certo non è che si siano abbattuti per niente sono comunque dei leoni questi quando quando dico ai battaglioni le unità ucraine che poi dici in alcuni casi c'erano noi siamo la seconda la quarta compagnia per dire dicevi ma sono solo quelli erano quelli che erano sopravvissuti di quelle unità lì e dicevano noi non possiamo continuare a combattere in queste condizioni perché le perdite sono elevatissime certo che quando da 300 membri passi a 80 la cosa comincia ma sono soldati che sono rimasti sul fronte poi capisco anche perché si arrendano nel momento in cui sono nell'impossibilità di proseguire a combattere in quelle condizioni perché poi perdono fiducia anche nei loro comandi nei loro ufficiali a un certo punto magari li fanno fuori e si arrendono perché comunque si accorgono che c'è una discrepanza enorme tra la propaganda che viene ripetuta a pappagallo dai nostri media e quella che è la realtà sul campo che da noi continuano a dire i russi sono in grave difficoltà i russi hanno finito i carri armati i russi hanno finito i missili i russi hanno finito le munizioni i russi non mangiano neanche e devono rubare le galline per averle uova e riuscire a mangiare qualcosa al danno anche la beffa era tutto falso rubano i bambini addirittura hanno detto che stuporano i bambini i linfanti ma ci rendiamo conto chi ha credito che io sono stato male ma è apparsa sui media apparsa sui media sta cosa qua su qualche titolo di giornale l'ho letto ci sono delle cose che sembrano cioè se non fossero tragiche sarebbero oggi le comiche no? perché leggi delle cose di un'assurdità allucinante e comunque sia tacere le vittime e le perdite ucraine è un disservizio certo non reca onore ai caduti li uccide una seconda volta esattamente come i civili di Buccia che sono state vittime dei combattimenti che poi sono stati uccisi una seconda volta perché sono stati utilizzati come propaganda certo certo ed è aberrante questo Sascha per quanto riguarda la situazione in Ucraina abbiamo più o meno finito abbiamo detto degli Harpoon possiamo dire che sono caduti in mano russa oltre a un innumerevole centinaia e centinaia di missili Javelin e lo credo che siano ormai qualche migliaio forse quelli che hanno preso in tutto e usato di vario tipo sono caduti anche gli switchblade si abbiamo visti anche noi abbiamo pubblicato qualche notizia al riguardo è incredibile l'ho letto infatti sul canale Saker ricordo tutti che c'è il canale Saker a cui iscriversi grazie Stefano iscrivetevi anche al canale di Stefano Odeg guerra russo ucraina che è il canale sul quale scrivo io tra l'altro scambio anche diverso materiale di Saker perché si chiamano news aggregator perché prendiamo le notizie un po' di qua un po' di là le mettiamo insieme in modo che uno seguendo un canale o l'altro sappia bene o male invece di guardarne cento no questo l'ha pubblicato lui allora io ne pubblico un'altra così uno deve girare duemila canali i nomi che ci stai dicendo adesso ci dicono qualcosa sono delle condivisioni che vediamo spesso e vogliamo sensibilizzare le persone che non conoscono questo canale ad andare a visualizzarlo esattamente switchblade che cos'è lo switchblade ricordiamo un attimo esiste in due modelli il switchblade 30 e lo switchblade 60 sono due tipologie di droni ultimo grido ultimo tipo sono lo stato dell'arte dei droni tascabili tra virgolette statunitensi che sono stati venduti scusatemi venduti regalati all'esercito ucraino perché spazzassero via le offensive russe e infatti cosa avevamo detto Sasha tutte queste armi al massimo rallentano rallentano l'avanzato ma non cambiano l'esito della guerra fa strano fa strano che le abbiano immesse in questo mercato perché oggi sono finite già in mano alle repubbliche e quindi sono già a Mosca diciamo al centro studio appunto e magari poi una volta che hanno finito di studiarli i russi te li fanno migliori te li fanno migliori e no li passano magari anche ai cinesi perché sai in cambio di qualche altro favore dei sistemi cinesi che fanno paura Stefano degli MLRS che sparano questi droni quindi una valanga di questi droni in aria e fanno degli sciami come si ferma uno sciame di questo genere non ce la fai ecco tornando al nostro switchblade 30 lo switchblade 30 sta in un tubo più o meno grosso così che si porta dietro il soldato nello zaino lo piazza a terra lo piazza a terra come fosse un piccolo mortaio da 60 o da 58 lo piazza così a terra e lui si spara verso l'alto si allargano le ali e si attiva la propulsione e lui parte ha una batteria e un'elica viaggia e va a cercare i bersagli che sono in memoria no perché viene prima caricato la zona che deve pattugliare il percorso sicuramente vengono decise tutte queste cose 40 minuti di volo di autonomia questo modello qui e quindi percorre una zona di una decina di chilometri per il pattugliamento o 20 per andare a distruggere no e poi c'è lo switchblade 60 che è più grosso ha più autonomia e ha una testata quindi di bellica di maggior potenza pari a quella di un javelin mi sembra all'incirca però non ha la velocità del javelin e attenzione e quindi potrebbe anche essere meno efficace sull'efficacia sul campo di battaglia io purtroppo non ho trovato sufficienti informazioni e quindi so che avevano cercato di lanciarli contro alcuni carri armati ma non so se era il 60 o il 30 ma non erano riusciti a fermare quel carro armato e via dicendo l'avevo sentito l'avevo letto su alcuni canali telegrama i primi tempi che erano arrivati dopodiché un po' se ne è persa la traccia quindi o non funzionavano come si doveva che magari non trovavano il bersaglio esaurita la batteria cadevano oppure che comunque anche colpendo alcuni bersagli non ottenevano forse il risultato sperato per più svariati motivi che non conosciamo bene quindi a fine probabilmente del conflitto acquisiremo poi le informazioni sull'effettiva efficacia di questi sistemi comunque sia quello che la cosa più interessante non è tanto la carica bellica o l'efficacia della testata che portano ma il sistema di guida e il software di navigazione e quindi queste cose andranno nella miniaturizzazione ai centri di ricerca perché questo sistema al momento non ce l'hanno i russi e quindi possono trovare degli spunti molto interessanti per migliorare la produzione di droni munizioni tra l'altro vaganti che hanno i russi perché li produce ad esempio la kalashnikov o anche controbattere stefano immagino questi switchblade perché una volta che tu hai in mano tutti questi dati sulla navigazione sui gps sul posizionamento e sulla programmazione esatto forse si può contrastare anche anche disturbarli e via dicendo in qualche modo per esempio le tecniche di volo degli su 25 perché tanto che non sentiamo di un abbattimento di un aereo eppure eppure mi ricordo che avevano mandato dei sistemi di moderni molto moderni di sistemi antiaerei portatili spalleggiabili quelli inglesi in alcuni casi non erano propriamente spalleggiabili ma avevano bisogno di un supporto comunque dovevano essere dei cambi di gioco game changer notevoli sul campo di battaglia e invece sembra che i russi abbiano cambiato la strategia di volo e delle missioni e non hanno più avuto di queste perdite non si vede più da tempo un elicottero russo abbattuto non si vede più da tempo un aereo abbattuto eppure le missioni le fanno ma avete visto voi come volano gli SU-25 belle giostre con tutte le contramisure come arrivano sul territorio nemico iniziano l'avvicinamento alla zona dell'obiettivo continuando a virare e a mollare le contramisure certo in continuazione come se percepiscono di essere inquadrati iniziano le missioni poi delle contramisure quando sono proprio in zona di bersaglio ma anche poi allontanandosi continuano a cambiare direzione di volo in una giostra senza fine fino a quando non escono dal territorio nemico e sono in zona sicura questo tipo di attività è un'evoluzione della tattica di volo in zona operativa elaborata per controbattere i software di acquisizione dei sistemi antiaerei occidentali stiamo parlando di Stinger e di altri sistemi quelli inglesi e di altro tipo perché hanno mandato di tutto abbiamo visto anche delle jeep con dei mistral sopra di tutto di tutto eppure sembra che sia efficace perché impedisce di acquisire il bersaglio perché il continuo cambio di rotta sembra che impedisca al sistema di acquisizione di fissare l'obiettivo e quindi di poter essere lanciato e essere efficace e anche se lanciato lo perde a quanto sembra le contromisure ad esempio servono per la ricerca a calore però non è detta che siano tutti a ricerca di calore questi sistemi siamo Stefano vicino all'un'ora e mezza abbiamo quasi finito io direi che abbiamo ancora un piccolo argomento di cui vorrei trattare con te piccolo che poi può aumentare a dismisura in questi giorni noi sentiamo che c'è sul confine bielorusso del movimento che comincia a farsi da parte delle truppe bielorusse e non solo sappiamo che i polacchi stanno avanzando delle pretese che noi da sempre sapevamo potevano essere una realtà e oggi vengono a manifestarsi con questi interessi per la parte occidentale dell'Ucraina allora innanzitutto dobbiamo spiegare che c'è stata una legge votata dal governo Zelensky che concede uno status particolare alle forze di polizia polacche come anche ai cittadini polacchi che possono addirittura acquisire la cittadinanza scusate incarichi governativi in territorio polacco e questo è molto strano in territorio ucraino scusatemi in territorio ucraino è molto strano ed è un inizio di quello status di cessione di sovranità e infatti è di fatto è l'inizio della creazione di un protettorato polacco in territorio ucraino di fatti cercano di riprendere il controllo su quella parte occidentale del paese ed erano le mire espansionistiche classiche dei polacchi il loro sogno è creare dal Baltico al Mar Nero una fascia di territorio sotto tutto il loro controllo e quindi loro avevano questo sogno di prendere da Odessa fino a Danzica è tutto pan polacco il problema è che hanno fatto i conti senza l'oste hanno fatto i conti senza l'oste innanzitutto poi hanno mandato mi sembra delle truppe mercenarie in territorio ucraino due battaglioni due unità di qualche tipo delle quali però non ho notizia sulla posizione l'ultima volta le avevo erano state segnalate a Dnepo-Petrosk indicate come zona di arrivo verso Advevka o qualcosa del genere però non se n'è più saputo nulla poi dopo i polacchi comunque sono sempre da tenere sotto controllo è andato recentemente Duda là a abbracciare Zelensky sembra effettivamente quell'abbraccio col coltello dove alla schiena qualcosa del genere comunque sia non bisogna stare attenti ai polacchi nel senso che questi ne combinano una più di Bertoldo e rischiano di coinvolgere poi il resto dell'occidente dell'unione europea poi in un conflitto certo che le dichiarazioni che fanno il tedesco Scholz o quei pazzi della von der Leyen o di Macron e compagnia non tanto Macron quanto il signor Pesk dell'unione europea Borrell oh mamma mia Borrell che fanno delle dichiarazioni fantascientifiche folli follia veramente sono persone credo con notevoli disturbi quantomeno di informazione che ricevono perché per dire delle cose così sono veramente fuori dal mondo e Scholz vabbè lui è tra l'incudi nel martello perché gli chiedono di mandare tutti i leopardo due a sette ne ha ancora tipo cinque mi viene da dire tra l'incudi in un altro sì sì lo sappiamo ma non vogliamo per fortuna le persone ci capiscono così ormai esatto esatto perché se sei sull'incudine tino allora i tedeschi sono quelli che stanno subendo di più i danni perché avevano il Nord Stream 2 pronto a partire e niente non parte e alla fine non parte ecco e quindi la loro energia per la loro industria infatti ripartono le centrali a carbone in questi giorni se ne sta parlando con i verdi e la buona com'è che si chiamava quella trecciolona lì la pipi calze lunghe svedese ah non mi ricordo ci sono tutti tirati una bella ah Greta Thunberg Greta Thunberg mi sta parlando di quella io stavo andando a persone più più adulte lei che voleva fare un balzo in avanti si vede tornare indietro di 50 anni nel 1800 le miniere di carbone le centrali a carbone vabbè fatto sta che l'altra situazione che mi preoccupa è la Moldavia in Moldavia è in corso fino al 2 un'esercitazione militare ai confini della Pridnestrovje e non è bello questo oltretutto ci sono state delle altrettanto brutte dichiarazioni della pessima Litz Truss britannica ministro degli esteri che hanno detto hanno ripetuto più volte che siccome è minacciata la Moldavia loro sono disponibili a fornire a fornire tutto il gli aiuti militari che possono e inoltre siccome l'ex presidente Dodon in occasione del 9 maggio aveva esposto su di sé il nastro di San Giorgio a ricordo del sacrificio dell'esercito sovietico per combattere il nazismo la Moldavia filo unionista ha proibito l'esposizione del nastro di San Giorgio e lui invece l'ha fatto per ricordare appunto la vittoria sul nazifascismo sul nazismo meglio ancora in quelle zone ed è stato messo sotto processo e agli arresti domiciliari mi sembra indagato adesso e rischia addirittura il processo per alto tradimento e non è una bella situazione insomma stiamo assistendo allo scaldarsi non soltanto di tutto quello che abbiamo detto prima dalla Polonia alla Bielorussia ma anche stiamo scendendo verso la Moldavia Sascha questo qui sembra un bel caso di lawfare cioè di uso distorto della legge ai fini di destabilizzazione di un paese perché di fatto Dodo nel capo dell'opposizione ex presidente ex presidente e come in Ucraina è sotto processo Poroshenko e tutti i partiti di opposizione sono stati messi fuori legge nel paese democratico anche qui si sta destabilizzando la Moldavia stiamo assistendo però a una cosa diametralmente opposta a cadere in Ungheria se noi guardiamo quello che succede in queste regioni destabilizzate l'Ungheria sembra una delle poche che ancora riesce a resistere con la sua autonomia con il suo volere e i suoi piani l'Ungheria ha votato da pochissimo il popolo ha votato in maniera compatta per l'attuale presidente e il quale è entrato tra l'altro in carica mi sembra due giorni fa e ha dichiarato immediatamente come primo atto lo stato di emergenza nel paese a causa del conflitto vicino ed è importante perché potrà prendere le misure immediate per contrastare eventuali anche tentativi di destabilizzare il paese anche l'Ungheria ha delle mire in Ucraina o sbaglio non c'è la Transcarpazia che faceva parte dell'Ucraina dell'Ungheria esattamente non solo similmente a quanto fa la Turchia nei territori occupati della Siria l'Ungheria sta rilasciando passaporti ungheresi ai cittadini di origine ungherese che sono anche tra l'altro che parlano la lingua tra l'altro ungherese e quindi sono di etnia a lui vicino e ricevono la cittadinanza la cosa non era mancata di creare un malcontento notevole da parte del governo ucraino che non riconosce minoranze linguistiche cioè o parli l'ucraino o niente o parli l'ucraino la democrazia esattamente esattamente e quindi vengono calpestate le minoranze etniche le minoranze linguistiche anche i rom sono perseguitati in ucraina che ne dicano e lo neghino anzi è così e ci sono le denunce delle comunità rom prima addirittura della guerra prima della guerra sto dicendo anche le comunità italiane a rom hanno portato avanti le proteste presso le istituzioni europee per denunciare il maltrattamento del loro gruppo etnico in ucraina e che prosegue tra l'altro nel silenzio di tutti diciamolo anche questo un altro fattore che mi preoccupa è quanto continua ad avvenire in Armenia perché anche in Armenia proseguono fortissime manifestazioni di piazza contro il primo ministro Pashinyan che pure sembrava aver vinto così bene nelle ultime elezioni eppure ha le piazze piene di gente inferocita perché tra l'altro stanno aumentando i prezzi di generi di prima necessità stranamente o giuro in l'altro giorno è uscita la notizia in Russia che scendono iniziano a scendere i prezzi dei generi di prima necessità perché perché a causa del rublo che è sceso sotto quota 56 oggi non so se addirittura è sceso sotto quota 55 col dollaro sarebbe un'altra soglia psicologica importante perché era sceso sotto i 60 ed era e poi ha cercato di hanno cercato di tenerlo lì ma poi ha continuato a scendere il dollaro l'effetto che cos'è che c'è una certa deflazione di qualche tipo perché i beni importati costano meno in Russia e di fatto quindi i prezzi tendono a scendere e tra l'altro tutti i generi che dicevano adesso non hanno più gli iPhone non hanno più i Samsung ma col cavolo hanno tutto hanno tutto perché lo comperano tra l'altro con il rafforzamento del rublo a un prezzo magari conveniente rispetto a prima sul mercato parallelo per Yahoo Finance la cosa adesso è a 63 ma 62 ah beh allora ha avuto un rimbalzo sì sì ma è tutta roba normale ma è contro l'interesse russo che aumenti troppo velocemente certo perché anche per le esportazioni e via dicendo molto meglio che sia graduale una cosa che viene una cosa molto graduale via dicendo sta acquisendo da inizio anno acquisito mi sembra il 20% di valore in positivo e nonostante che avesse avuto un crollo all'inizio del conflitto ma era proprio quello che gli occidentali volevano questa alta volatilità questa brutalità nello scambio ce lo ricordiamo cosa dicevano ah il rublo non vale più niente devono andare a fare la spesa con le carrette di banconote fanno il mutuo per comprare il pane ecco tra un po' il mutuo per comprare il pane lo dovremmo fare noi perché comprando il grano a prezzi come fosse oro ma i nostri contadini ancora non glielo pagano quelle cifre pretendono di dargli una pippata di tabacco per poi aumentare a dismisura i guadagni i grandi distributori come al solito il risultato qual è che noi rischiamo veramente di avere un tracollo nelle finanze familiari perché tutto quello che è basato sul grano credo che sia ormai imminente ecco e infatti se ne sente parlare sempre di più anche in televisione addirittura sono andati a piangere da Putin perché gli hanno detto ma dai su non te la sarai mica presa per le sanzioni che ti abbia messo lasci uscire le navi andare avanti indietro le navi per prendere il grano almeno il grano almeno il grano così e lui gli ha detto ma certo ma sicuro ma appena levate le sanzioni io faccio passare tutte le navi che volete e perché non deve farlo gli abbiamo messo noi le sanzioni e non eravamo a parte in causa del conflitto dei geni assoluti e su queste note grazie Stefano Sascha ti saluto alla prossima alla prossima che sarà breve perché speriamo che sia adesso io non ho più scuse io ci sarò diciamo subito martedì pomeriggio se eventualmente tu puoi volentieri io ci sono lo segniamo per martedì prossimo e così facciamo subito il punto e vediamo bene un saluto a tutti a tutte e tutti alla prossima ciao Sascha ciao 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 Grazie.